Il censimento della popolazione e delle abitazioni da decennale diventa annuale. Il censimento è lo strumento attraverso il quale si conoscono meglio le esigenze della popolazione per un maggiore soddisfacimento delle stesse. Avverrà attraverso dei rilevatori, ovvero dei soggetti, delle persone munite di tablet che faranno delle domande preparate dall'Istat oppure tramite il web o a metà. Cambia il censimento e di conseguenza si evolve anche l'organizzazione, il questionario e le persone che se ne occuperanno sul territorio, la rete di rilevazione e la campagna di comunicazione. Innanzitutto sarà basato su fondi amministrative e su rilevazioni di tipo campionario, quindi i soggetti saranno scelti a campione, ovvero i singoli soggetti o le famiglie. Tutti i cittadini saranno adeguatamente informati attraverso una campagna di comunicazione che si articolerà su più fronti a partire da ottobre.